A mentito, non sono fuori dal nostro rapporto, ci sono dentro talmente tanto che sono umiliata perché sono qui a supplicare. Meredith, sta zitto. Tu dici Meredith e io urlo, l'hai dimenticato? Sì. Ok, ecco qui. La tua scelta è semplice, lei o me. Io sono sicura che lei è una grandonna, ma vedi, io ti amo e in un modo veramente incredibile. Cerco di amare i tuoi gusti musicali, ti lascio l'ultimo pezzo di torta, potrei saltare dalla montagna più alta se me lo chiedessi e ciò che mi porta a odiarti mi spinge ad amarti. Per cui prendi me, scegli me, ama me. Io vado da Giò stasera e se tu dovessi decidere di firmare i documenti, mi trovi lì. Grazie.